Ben ritrovati da Patrizia Simonetti a Non Solo Radio, il nostro settimanale audio-video di cinema, teatro, musica ed eventi a Roma. Una collaborazione tra Radio Antenna 1 e Spettacolomania.it Fortunata presentazione a Cinecittà di Grande Fratello VIP, partito con la seconda edizione su Canale 5 con un esordio da record e ben 4 milioni e mezzo di telespettatori. Ma potevamo non esserci e non andare a farci un giro nella famigerata casa? E girando girando in una delle camere da letto abbiamo incontrato la padrona di casa, appunto, una bionda e divertita Hilary Blasi alla quale non potevamo non chiedere anche di Francesco Totti, che ve lo anticipiamo, quest'anno non farà nessuna incursione a sorpresa nella casa. Quest'anno non sarebbe una sorpresa, non sarebbe una novità, quindi... Ma che effetto ti fa a vederlo in giacca e cravatta da dirigente? Vi devo dire che invece sta molto bene. Sì, mi piace molto, insomma, è più grande, più maturo, quindi adoro questo ruolo un pochino più dirigenziale. E poi te lo stai godendo un po' di più a casa, no? Ma guarda, il livello di impegno non è che sia cambiato tantissimo, cambia il costume, ma più o meno sono quelli gli impegni, a parte quest'estate che ha avuto più tempo libero, però insomma... Grande Fratello VIP, torniamo qui. Tra le novità di quest'anno c'è la Jalapas Band, che tu conosci benissimo. Assolutamente sì, i miei amichetti mi hanno raggiunto anche qui, fanno parte di questa grande famiglia, sono veramente felice. Con loro ho un bel rapporto e li adoro, sono irriverenti al punto giusto, ironici, e quindi sicuramente ci faranno divertire con i loro firmati. Grande Fratello VIP è stato definito piacevolmente trash, a te che rapporto hai con il trash? Ti piace? Ti diverte? Assolutamente sì. Cioè, poi è bello comunque mischiare il trash, il pop, a momenti anche magari un pochino più emozionanti o di riflessione, perché comunque sono storie di vita, anche se sono VIP, cioè fanno le stesse cose che facciamo tutti, per cui, insomma, questo bel mix piace a me, ma piace, insomma, anche a voi che lo guardate. Radio Antenna 1, un saluto a tutti gli amici. Ciao. Dai la riblasi. Grandi debuti anche sulle Retirai, presentato nel Teatro 9 degli Studi De Paolis, 1, 2, 3, Fiorella, il doppio One Woman Show della cantautrice romana, che dopo la prima puntata di sabato 16 settembre, torna sabato prossimo, 23 settembre, sempre alle 21.25, con tantissimi altri ospiti, da Loredana Bertea, Clementino, da Mika Gianna Nannini, da Paola Turci, Adelisa, Emma e molti altri. Un'altra bella e nuova esperienza per Fiorella Mannoia, che abbiamo visto anche tornare al cinema, con sette minuti di Michele Placido e poi anche al Festival di Sanremo. Non era previsto, né l'ho mai cercato, non mi è venuto mai in mente in realtà, però siccome sono, appunto, mi piace rischiare, mi piace mettermi in gioco, anche perché sono arrivata a un'età in cui voglio continuare a divertirmi, perché ripetere te stesso all'infinito, con le solite cose, alla fine viene anche annoia, se non ti metti alla prova con qualcosa di diverso. E sono, ho accettato tutto con molto coraggio, con non poca preoccupazione, ecco, la stessa partecipazione a Sanremo mi ha dato preoccupazione. Su Rai 2, invece, è ripartito Pechino Express, l'adventure show di Costantino della Gerardesca, che intanto si prepara ad un nuovo programma on the road sui matrimoni. È una trasmissione che si apre verso il mondo. Noi siamo abituati a una televisione che parla sempre dell'Italia, molto solipsistica. Qualsiasi cosa che invece apre verso il nostro pianeta, secondo me funziona, secondo me è attuale nell'economia globale, diciamo. Ci sarà il programma sui matrimoni, che è un grande mistero. La rete mi ha detto che non posso dire nulla. Un saluto a Radio Antenna 1 da Costantino della Gerardesca. Alzi la mano chi non ha mai passato una notte in bianco dopo aver visto un film di Dario Argento, su Spiria, per esempio, che pare passi presto dal grande al piccolo schermo. Lo abbiamo chiesto direttamente al maestro del brivido, che l'autunno prossimo leggeremo anche su Dylan Dogg. Si parlava di una serie tv di Suspiria. A che punto siamo? Ma stanno mettendosi d'accordo i vari produttori. Ancora, siccome si fa in America, è una cosa americana, quindi ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza. E invece il remake di Suspiria lo stanno già facendo, guadagnino? È finito, è finito, adesso uscirà. L'ha visto, che ne pensa? No, non l'ho visto. Ma che ne pensa di un remake di Suspiria? Sono le responsabilità di chi l'ha fatto, non lo so io, non l'ho fatto io. Invece so che ha scritto una storia per Dylan Dogg. Sì. E quindi che storia è? Una storia alla Dylan Dogg. Così è stato un... Non dico un gioco, però un esperimento. Ma Dylan Dogg è uno dei suoi fumetti preferiti oppure... Ma io non sono tanto appassionato di fumetti, però è uno dei... Se c'è un fumetto che amo è certamente Dylan Dogg. Ciao, Radio Antenna 1. Sono Dario Argento. Ed è tutto per oggi. Alla prossima settimana.